Seconda corsa è la prima delle batterie del trofeo Anna Maria Grassi, sono dieci gentleman Problemi per Gilly Pearl, problemi anche per Dalida Abban Dulcinea di Casei va facile a condurre nei confronti di Dr. Adri, terza posizione per Dolce Nera Bar Di fuori rimane Desert Queen Tal, mentre prova a puntare in avanti Dead D.P. che è rimasto in terza corsia lungo la prima curva Dopo 200 metri, passati in 15.7, Dead D.P. punta in avanti, aggira Desert Queen Tal E va a profilarsi accanto a Dr. Adri, Dulcinea di Casei però allunga, fa capire che chiaramente vuole correre al comando Mentre nelle retrovie ha sbagliato Divina del Sile, se ne vanno i primi 400 metri in 30 e mezzo Dulcinea di Casei al comando, Dr. Adri nella sua scia Di fuori Dead D.P. poi Desert Queen Tal che ha trovato posto alla corda, quindi in seconda pariglia esterna c'è Da Granit Dipa, ancora allo steccato Dolce Nera Bar che precede alla retroguardia Dai Kirifi e Gilly Pearl Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa con Dulcinea di Casei all'avanguardia Dead D.P. che avrebbe posto per sistemarsi nella sua scia Un minuto e sei decimi per la metà gara, Dead D.P. che ripiega in schiena Deve però presto spostare a largo perché vuol tenersi la destra libera nei confronti di Da Granit Dipa Che avanza all'esterno, quindi ancora allo steccato Dr. Adri che sembra avere un calo Viene via dall'ultima posizione Gilly Pearl dopo l'incertezza iniziale Intanto la battistrada lunga decisa, a 400 metri dalla conclusione Dulcinea di Casei cerca la fuga da Dead D.P. c'è stato un 14.7 per la retta di là Uno 39.75 di miglio, Dulcinea in vantaggio, Dead D.P. nella sua scia Poi da Granit Dipa, quindi ancora Dai Kirifi in mezzo alla pista Gilly Pearl La piegata conclusiva passata in 15.8 è in vantaggio Dulcinea di Casei Dead D.P. che torna a largo ma Dulcinea di Casei si sta allungando Dulcinea di Casei che viene a vincere nettissima Con Federica Scuffia porta a casa la vittoria Al secondo posto finisce Dead D.P. Mentre per il terzo Dai Kirifi dovrebbe aver tenuto a bada Il finish interno di Dolce Nera Bar Facile assunto in percorso di testa per Dulcinea di Casei Federica Scuffia, Andrea Vitagliano I colori di Vincenzo Vitagliano Facile successo del numero 5 Dulcinea di Casei Netta nel finale A portare a casa la vittoria Secondo Dead D.P. il terzo posto per Dai Kirifi Quarto per Dolce Nera Bar Il quinto poi per Gilly Pearl Via via gli altri Con Ciro Ciccarelli che precede Matteo Zacchirini Per la sesta e settima posizione Posizioni comunque importanti Per la scelta dei cavalli della finale Grazie a tutti